Ci sono artifici progettuali che segnano il progetto di una casa. Per esempio la linea diagonale. Ne parliamo con Angelo Luigi Tartaglia che ritorna con noi oggi. Grazie. Buongiorno e grazie a te. È un artificio in questo caso o è anche una cosa che distribuisce gli spazi, questa diagonale che hai pensato per questa casa? Era la volontà di ampliare l'immagine prospettica entrando in questo edificio che è composto di tre livelli e quindi di dare appena si entrasse un'immagine più aperta anziché avere lo sguardo rivolto verso una direzione perpendicolare. Pertanto abbiamo indirizzato tutta la composizione del piano terreno in maniera diagonale. Le stesse diagonali poi hanno dettato la geometria di tutto il resto della casa. E viene anche ripreso in alcune decorazioni, nelle tue linee. Esatto, cioè la linea obliqua effettivamente è stata scandita in tutte le manifestazioni di questo intervento, sia per quanto riguarda la composizione geometrica ma anche per quanto riguarda i segni lasciati sulle varie componenti di arredo, quindi le vetrate e anche il resto dei mobili. Per quanto riguarda l'elemento principale utilizzato in questa realizzazione è il vetro. Dal momento che volevamo economizzare gli spazi e dare la massima fruibilità possibile, avendo dovuto lavorare con dimensioni abbastanza esigue, abbiamo preferito lasciare ai diaframmi il minimo spessore. E pertanto, come si può intravedere nella prima pianta del piano terra, abbiamo posizionato la famosa diagonale di cui parlavi te, che unisce questi due speroni, il primo d'ingresso va verso la porta finestra che conduce al giardino, e questo elemento ha poi caratterizzato il riallineamento perpendicolare degli altri volumi. Senti, una cosa che si nota subito è che questi tavoli che fanno da contrapunto abbiano trapezzidali. Sono trapezzidali e complementari, cioè sono su ruote e volendo si può spostare questo dalla cuscina e può diventare l'allungo di quest'altro nelle condizioni in cui ci sono più ospiti in casa. Quindi la diagonale è un gioco ma è anche un vincolo che diventa una possibilità progettuale. Diciamo che fondamentalmente la diagonale iniziale è stata quella che poi come linguaggio ci ha condizionato anche nel resto del progetto. Però alla fin fine siamo rimasti abbastanza soddisfatti di come l'intervento sia andato avanti. Questo era lo stato attuale in cui vediamo che all'ingresso era stato posizionato un piccolo bagno e qui doveva essere il cucinotto, cucinotto che noi non abbiamo trovato perché i proprietari preferivano utilizzare il piano seminterrato perché la casa è su tre livelli di cui questo è il livello che da questa parte è il giardino e da questa parte ha un giardino che poi scende di quota e va al piano inferiore e quindi utilizzavano il piano inferiore per il family room e con la cucina. Abbiamo riposizionato la cucina in questo piano perché ci sembrava scomodo che ogni volta se ricevesse un ospite devono fare su e giù e quindi abbiamo eliminato l'elemento bagno. Come vedi sono state spostate anche le colonne montanti perché qui c'era questo sperone che conteneva tutti gli scarichi e il bagno è diventato questo piccolo elemento diaframmato con doppia lastra di cristallo cioè per una questione di privacy, quindi abbiamo posizionato questa grossa lastra scorrevole che divide questo ambito che sarebbe l'ingressetto e qui c'è la porta sempre scorrevole che porta al bagno. Da quest'altra parte abbiamo l'ingresso alla cucina. Qui è stato fatto un grosso angolo salotto con un divano su disegno realizzato da una ditta industriale però abbiamo dovuto fare questo angolo con un'angolazione particolare e tutto il resto alla fine è stato condizionato anche in questo mobile contenitore sempre dalla stessa matrice diagonale. Andiamo a vedere delle immagini perché abbiamo capito... Sposto solo il piano superiore in cui c'era la preesistenza di questo grosso vuoto sul soggiorno con questo ballatoio di camminamento e per aumentare la superficie di calpestio della casa abbiamo vetrato questo spazio in modo tale che tutto questo ambito fosse poi destinato a uno studio, una zona studio. Quindi il pavimento è vetrato e l'elemento centrale diventa il plafond luminoso che illumina il pian terreno. E' stato lasciato la camera matrimoniale, il bagno principale, la camera della figliola è stata anche qui eliminato uno sperone che era la canna fumare del camino sottostante ed è stata resa agibile a tutti gli effetti. Anche in questo caso la linea diagonale del soppalco, diciamo così, rimane. Le matrici diagonali sono state portate anche per la scansione del pavimento al piano superiore che è stato realizzato in acciaio e vetro. E questo è il piano seminterrato in cui inizialmente c'era solo la cucina, abbiamo lasciato una cucina per gli ospiti, una piccola zona biliardo e due sedute e un bagno per gli ospiti. Uno di questi divani potrebbe diventare divano letto. E qui entriamo in casa in cui siamo nella posizione iniziale, proprio nell'ingresso diaframmato. Qui a sinistra c'è il bagnetto. Il bagno è da questa parte, qui si intravede l'anta della porta, l'anta scorrevole della cucina e la diagonale, eccola qui, diciamo che è quella che in questo caso sembra quasi perpendicolare. E' sempre che tu ti sei messo in linea, c'è il fotografo. Esatto, ma siamo inclinati. Si percepisce dal reticolo, chiamiamo così, del soppacco. Esatto, infatti questa trave è esattamente allineata con l'elemento di base. Per accentuare questo gioco di linea abbiamo ipotizzato che la zona di camminamento fosse in un parchè di colore molto scuro, mentre tutta la zona, il parchè che entra anche in bagno, quindi con un po' una forzatura, quindi lasciare la parte più delicata di calpestio in legno, la parte diciamo meno usurante in gress porcellanato, scandendo proprio i ritmi in senso contrario, quindi losanghe verticali. Ho usato spesso questi inserti plurimaterici nei pavimenti, legno, gress, acciaio. È un modo per accentuare le geometrie compositive. Quasi dei tappeti, no? Non amo i tappeti. No, dico dei tappeti di pavimentali. No, infatti dico non amo i tappeti, quindi fondamentalmente il pavimento diventa anche un elemento di grosso impatto visivo. Andiamo avanti. Questo è il bagno, quello all'ingresso, in cui le stesse linee sono state poi ricostruite per far sì che ci fossero anche dei minimi spiragli visivi per evitare che qualcuno possa poi battere attraversandolo contro le vetrate e questa è la lanta scorrevole che si apre per entrare in bagno. Qui si intravede già l'angolo della scala. Dalla parte opposta abbiamo la cucina che anch'essa è schermata con una grossa lastra da terra a soffitto sulla quale sono state poi ripetute le stesse geometrie in diagonali per far sì che ci sia sempre questa commissione visiva tra zona giorno e zona cucina. Senti, una delle domande che si pone di solito è questa, come hai presentato questo progetto al committente? Siamo su una casa a schiera, diciamo così. Casa a schiera degli anni 70 più o meno. È un intervento molto importante questo perché comunque disastri, inclini, disegni su misura. C'è da dire che c'è stata una fiducia totale perché i proprietari di questo immobile hanno vissuto in una mia casa. Era la mia casa che io ho affittato quando mi sono trasferito nella nuova casa ed era una casa molto particolare, oltretutto pubblicata diverse volte sia su interni che su interior design negli anni 80. Quindi erano abituati a un'architettura disegnata da me e si sono fidati ciecamente di farsi fare casa quando hanno comprato questa. E come l'hai presentato con i tuoi disegni acquerelli? No, 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 ormai l'acquerello era stato usato alla fine degli anni 90, 98-99 per gli Emirati Arabi in cui le prospettive interni, se sono acquerellate e fatte bene, rendono molto di più rispetto a quelle renderizzate perché sono più fredde e oggi si riesce a fare di tutto anche con i render, ma andare a decorare un tappeto o fare delle cose di un certo tipo con il computer ci si impiegava più tempo e quindi preferiamo lavorare a mano all'epoca. Questa è, diciamo, dall'interno della cucina, si intravede la zona giorno, si intravede comunque già il plafon luminoso. Io intanto guardo i giochi, gli scuretti, le giuste apposizioni di piano. Sono lastre a filo vivo che si incrociano e è stato molto, diciamo, complicato far tornare tutti i disegni che in effetti il puzzle, diciamo, di apertura e di chiusura di quest'anta doveva poi combaciare con quella che gli proviene in senso completamente perpendicolare. Basta posizionare di un centimetro più bassa e la linea non si compone più. Ma infatti alla fine siamo tornati alla vecchia tecnica del modello perché con il computer non riuscivamo a capire. Le dim, no? Come si dicevano una volta. Sì, no, abbiamo fatto proprio un modello in scala, lo studio, e quindi abbiamo disegnato su questo modello le varie campiture satinate del vetro. Questa io la chiamo una fotografia glaciale perché cambia completamente colore e i ragazzi dello studio l'hanno voluto inserire, però, diciamo, fondamentalmente è a luce spenta e quindi, diciamo, la textura e la percezione del colore è completamente diversa. Qui si intravede già un po' la struttura di uno dei due tavoli che abbiamo disegnato. Senti, nell'architettura, nella storia dell'architettura, uno pensa a la maison de vera, a questi grandi manifesti, solo che lì c'era un colore un po' più verde, passava il termine del vetro. Questi nuovi materiali, questi vetri, queste lastre che sono pazzesche ormai, sono dei monumenti alla nuova edilizia e architettura, secondo te non rendono, appunto, un'aria un po' fredda? Tu hai detto a luci spenti e a luci accesi, non a caso. C'è anche da dire che la casa ha comunque molta luce fluorescente e il neon fluorescente, chiedo scusa per la voce, non c'è problema, se vuoi ti aiuto, parlo io per te. Quindi lei quando gioca con queste lastre e con queste serigrafie probabilmente rende un... In fotografia diventa più verdognolo e quindi diciamo che gli fotografi di solito non preferiscono fotografare con le luci fluorescenti ma a luci spente. Poi dobbiamo fare condizioni anche al fotografo perché è difficilissimo fotografare gli specchi, i vetri e le lastre, in questo caso non vedo degli errori di impalli fotografi. Voglio dirti che questa è una collaboratrice di studio, Michela Romano, che sta iniziando anche a prendere lezioni di fotografia e a dilettarsi gli scatti fotografici, devo dire che riesce molto bene nell'intento. Non si è fotografata. No, non si è fotografata. Andiamo avanti. Qui abbiamo una foto del bagno della zona giorno in cui anche nel taglio dello specchio, come vedi, la matrice diagonale ritorna sempre. Gli elementi sono tutti di produzione contemporanea, una lampada fontanarte, globo e anche il lavabo. In questo caso la diagonale è sempre quel, diciamo, 30 gradi, così a occhio per riprendere... Più o meno è un 30 gradi, sì. Andiamo avanti. Ecco qua poi si va... Qui si ricollega con l'elemento orizzontale che diventa un contenitore, sempre con un antaspecchio. Beh, è bella poi la posa di queste lastre in orizzontale per cui la diagonale si appoggia su questa fuga di... Chiamiamole lastre o piastrelle, ecco, così almeno ci capiamo. E anche questo mobile contenitore, naturalmente... Su disegno. Su disegno, ripete comunque tutta la geometria della casa e sembra un elemento che poggi semplicemente su questo vertice, quindi è una cosa abbastanza leggera e molto dinamica. Senti, poi hai scelto delle sedie che nelle diagonali, nel gioco delle facce, le ricordano. Esatto, si ispiravano, cioè, mi sono... Diciamo, tornavano ad hoc, che sono quelle di Costantino Grcic della Magis e quindi abbiamo... Dei cristalli, come direbbe Ponti, forse. Sì, in effetti questa sembra quasi una sedia che si sia ispirata a una punta di diamante. E qui ci si intravede l'altro tavolo. La scala inizialmente era schermata da una parete, l'abbiamo completamente liberata, anche qui abbiamo messo delle lastre di vetro per aumentare, naturalmente, la percezione dello spazio, per ampliare proprio lo spazio. Che fanno anche la sicurezza, no? Esatto. È bello che si rifletti, scusa, no, si vedeva il soppalco riflesso nella lastra. La lastra... Se vuoi torno indietro se vuoi. No, ma l'abbiamo visto. Questo è il tavolo sempre sul nostro disegno, sarebbe quello più grande che sta nella zona giorno e qui, come vedi, le sedie funzionano perfettamente. Ecco le ruote che dicevi, che possono andare a... Questo ha, diciamo, una sezione, una forma trapezoidale, qui sembra quasi rettangolare. Sì, sono dei tre pezzi in cui c'è sempre un angolo retto, gli altri tre sono comunque ottusi, ma acuti, scusami, e combacia esattamente con quell'altro della cucina. Questo è un controcampo in cui si intravede la parete di fondo, la parete della scala e il gioco del volume superiore che è stato chiuso con questo solaio in acciaio e vetro. Sto pensando che giocando con le luci si possono avere 40 milioni di effetti. Di effetti, certo. Infatti qui ritorna di nuovo il discorso del fluorescente, perché il plafond comunque è il fluorescente, come vedi, è una luce gialla che poi sui vetri diventa verdognola. Qui dove batte poca luce, effettivamente il vetro è rimasto piuttosto neutro. Questa è la composizione generale della parete di fondo in cui c'è la lastra più grande, quella scorrevole, che chiude la zona ingresso, questa è quella fissa del bagno e queste sono le due lastre fisse che chiudono la cucina. Ricordiamo che questo divano AL ha un angolo... Ha un angolo acuto, in effetti, questo qui. Altra caratteristica è l'unico tocco di colore nella cucina è la cappa e l'elemento superiore, perché tutto è stato studiato sui toni del marrone e l'inserimento del beige dei divani. Certo. Qui abbiamo un segno luminoso di una ditta romana, la TLB, che produce queste lampade da incasso e che ci permettono, ci hanno permesso di caratterizzare dei segni all'interno dell'abitazione, non solo nella zona giorno, ma anche nella stanza superiore. Ci dobbiamo fermare per qualche istante, ma state con noi perché proseguiamo con Tartaglia per questa casa in diagonale. A fra poco. Stiamo parlando con Angelo Luigi Tartaglia di una casa in diagonale e già da questa foto si capisce perché. Percepisce. Infatti qui si rileggono comunque le due linee, quella superiore della trave principale e quella inferiore del pavimento, che collimano perfettamente con la stessa inclinazione. Qui abbiamo, saliamo su al piano superiore e abbiamo la visione del piano iniziale inferiore da questa pavimentazione in vetro, stratificato, in cui anche il pavimento, qui ripete le stesse geometrie, se puoi intravedere, che vanno poi a ricuscirsi sopra l'armadio guardaroba. Forse la vediamo. Io stavo pensando al cantiere di questa casa, non riesco a non pensarci. Perché? Dici velocemente che cosa è stato fatto prima, i mobili su misura sono entrati, immagino alla fine. Prima tutta la parte, le demolizioni, quelle minime che ci sono state, poi la parte di impiantistica, perché è stata rivista completamente negli impianti, le finiture, quindi i pavimenti e contemporaneamente l'irrigidimento di questo ballatoio per sorreggere poi queste travi in acciaio verniciato e naturalmente anche il carico stesso del solaio, perché non è un carico indifferente. e poi alla fine semplicemente le farinamerie con... Quindi i parchettisti sono entrati ma c'era già il calcolato, diciamo così, la quota del vetro. È stata rifinita molto bene, una casa in cui la ditta ha lavorato veramente bene, tutte le ditte che hanno lavorato sono state molto precise e siamo rimasti soddisfatti, perché comunque è un lavoro che, anche se non di grossa entità, è molto raffinato. Le lastre di vetro a incastro con silicone, come sono state utilizzate? Queste sono semplicemente poggiate. Per gravità. Talmente precise, perché avevamo provato a far mettere delle guarnizioni di finitura, ma stonavano, quindi le abbiamo semplicemente lasciate con un minimo filo di distanza rispetto al profilo d'acciaio e quindi sono... Con guarnizioni di gomma trasparenti. Semplicemente con del neoprene sotto, che lo intravedi qui, questo qui, per lasciare la morbidezza di adagiamento della lastra. Certo. Come ti dicevo, le stesse linee ripercorrono anche sopra i mobili, quindi questa inclinazione che sarebbe la perpendicolare alla famosa diagonale poi si rilegge anche sopra il mobile guardaroba. L'altra scala che va al piano sottotetto è stata completamente liberata, e quindi diciamo diventa anche un elemento oltremodo di ampliamento dello spazio. Anche perché anche qui era... Quello è un armadio sottoscala su misura. Su misura, ma anch'esso ha l'inclinazione, quindi fuoriesce inclinato, ritorna con la stessa diagonale. Sì, perché sembrano quasi aperte. In realtà quella linea nera riprende la linea del pavimento. È questa, questa qui. Non so se c'è una foto che te la faccia intravedere meglio. Stesse lastre, stesse lampade da incasso sono state messe sia per cadenzare la salita, ma anche sulle porte delle stanze. Ci sono le stesse lastre. Qui è il gioco che si intravede dell'orditura del pavimento con gress porcellanato che ricombascia poi con le travi in metallo. Certo che uno pensa fosse stato tutto ortogonale, sarebbe stato in teoria più facile. Qui guardo questa piccola porzione di pavimento. Immagino i disegni che sono stati fatti. Sì, in effetti abbiamo questa grande abilità di stare per giornate intere a fare esecutivi. Sul dettaglio, sul dettaglio. Questo è uno dei bagni. Così come la posa di queste piastrelle, permettimi, perché già si capisce. Esatto, anche qui è stato un po' un impazzimento per farle tornare esattamente con il modulo non interrotto perché volevamo che ci fosse una geometria combasciante in tutti i lati. Così come il sifone che sfiora il mobile sottostante. Perfetto. Penso che la qualità di un progetto, alla fine se tu la studi bene a tavolino, poi la rileggi anche in esecuzione. E poi sugli allineamenti sono quasi maniaco. Questo è un altro bagno, è quello della zona, diciamo, del piano seminterrato in cui abbiamo dato un tocco di colore. I materiali sono sempre gli stessi, come dicevo anche nelle altre trasmissioni, non voglio fare un casellario di tanti. Uso sempre gli stessi materiali di finitura per i bagni, le stesse lubinetterie, le stesse lampade. Magari in colori diversi. Colori diversi o texture diverse, però non voglio spaziare una gamma troppo vasta di prodotti. Ricordo che in altre puntate hai fatto vedere il bagno dedicato, il bagno dedicato alla figlia, il bagno dedicato… Quella era una delle puntate in cui c'era la stessa piastrella che cambiava solo di colore. Oggi è un po' un'antologica, lo stiamo andando nel passato. Aspetta, torniamo indietro all'immagine precedente. Ecco, quindi… Però ecco, giusto, infatti avevo fatto questa battuta dei bagni, si capisce un tono quasi austero, un po' più serio di questo bagno e l'altro il colore rende un po' più… Anche quello del piano inferiore è abbastanza austero perché si inserisce in un contesto monocromatico. Nel piano della zona hobby ci siamo un pochino sbizzarriti con questo tocco di ocra, ma fondamentalmente la casa è giocata sempre su un bicromotismo. Abbiamo ancora un minuto, volevo farti una domanda sui materiali. Hai detto, uso all'interno di un progetto di una stessa casa, possibilmente la stessa azienda declinando le varie collezioni o di una collezione in particolare. Ecco, il capitolato, come si dice, è molto importante, no? Non solo perché economizza, se vuoi, i tempi di cantiere, perché ovviamente se hai tre aziende… Preciso un capitolato come il progetto e più sicuramente le imprese non hanno da fare obiezioni, osservazioni e quindi non variazione o revisione dei costi, perché la cosa più antipatica è stabilire con un cliente un costo e dopodiché lievita in fase di esecuzione. E questa è una delle cose poco corrette che si dovrebbe effettivare. E la domanda invece era sul su misura. Abbiamo visto in tanti i tuoi progetti, realizzi dei mobili, fai queste pareti… Sì, ho degli artigiani molto in gamba che lavorano con me da vent'anni. Quindi ormai c'hai uno storico acquisito. Preferisco usare sempre gli stessi anche perché una volta che si è stabilito un feeling di intesa non c'è bisogno di stare sempre in laboratorio, lo si può risolvere il problema anche semplicemente telefonicamente. Un'ultima domanda, velocissima. Sono anche loro a volte a suggeriti soluzioni materiali o sei sempre tu a parte? Accetto sempre dalle imprese dei suggerimenti se sono migliorativi. Questa è una cosa assolutamente normale. È una collaborazione. Grazie ad Angelo Luigi Tartaglia di essere stato con noi anche oggi. Grazie a te. Grazie a voi e alla prossima di Casa Estili. Grazie a tutti.